Io non sapevo che fosse un giorno così importante quando ho detto di venire, ma a me adesso tocca di dire congratulazione al Presidente Conte, il suo governo, è un giorno importantissimo per l'Italia e anche per l'Europa, credo che noi siamo pronti di lavorare insieme con questo governo nuovo, lavorare per creare un'Europa unita, forte, solidale, nell'interesse dei cittadini italiani e cittadini europei. Dunque per la Commissione Europea è molto molto importante incominciare quel dialogo col governo italiano per poter portare l'Europa avanti. Questo è un momento nella nostra storia europea dove abbiamo bisogno di unità, dove abbiamo bisogno di politiche che mandano alla crescita, politiche che ci fanno crescere, che danno anche speranza ai cittadini europei. Anche 60 milioni italiani, ma siamo 500 milioni in totale, dunque abbiamo bisogno per tutti di dare una visione del futuro che inspiri, che ci dà la possibilità di creare questa Europa unita, forte e solidale. Grazie. Allora era prevista soltanto questa dichiarazione, quindi vi ringrazio.